eccezionalmente di martedì visto che c'è un turno infrasettimanale che incombe amici di rete 55 benvenuti a una nuova puntata di serie di lombardia da parte mia paolo zerbi andiamo subito ad analizzare tutto quello che è successo nell'ultimo weekend visto che si è giocato sia di sabato che di domenica partiamo come sempre dal girone a non è andato oltre lo 0 a 0 il città di varese sul campo dell'asti un punto comunque prezioso come vedete visti anche gli altri risultati aspettando ovviamente i gol di guri e la qualità di palazzolo in mezzo al campo vincono le altre due lombarde vogherese e alcione con l'alcione come vedete dalla classifica che è primo in classifica pur in coabitazione la squadra di cusatis vuole essere una big di questo campionato stenta un po invece la san rimese che cade a bra e vedete che viene risucchiata nella pancia del gruppo andiamo a vedere tutti i gol del girone a con la consueta raffica solo 13 le reti segnate nel girone a il solito colpo di testa di paolo chierichetti su schema permette all'alcione di battere l'alba e agganciare la vetta della classifica davanti a tutti anche il chisola che super 3-1 il chieri sblocca la partita rizk poi momentaneo pareggio di rivi con un bel diagonale dopo un'azione caparbia in avvio di secondo tempo eccolo qui il gol del pareggio del chieri ma dura soltanto due minuti infatti il chisola trova nuovamente il vantaggio con con rotto che con un destro di collo pieno da dentro l'area di rigore segna il 2-1 successivamente arriva il tris ancora di rizk che chiude così la partita con la doppietta personale in precedenza il chisola aveva anche sbagliato un calcio di rigore meritando quindi vittoria e vetta della classifica vince anche la vogherese con un gol di levè il bomber rossonero controlla un cross dalla destra e da due passi non può sbagliare solo davanti al portiere colpo esterno del dertona gozzano un gol per tempo per i leoni che passano con un gol in mischia di samb su azione di corner raddoppio nella ripresa con gulli che controlla un pallone non semplice rientra sul mancino e fa partire un tiro chirurgico che non dà scampo al portiere esulta il numero 10 bianconero colpo di testa vincente di loreto lobosco il vato supera la fezzanese nel derby ligure il bomber rosso blu si gode gli applausi dei suoi tifosi sotto la tribuna eccola qui l'esultanza raffica di 1 a 0 questo quello del borgo sesia che supera il ligorna con il destro di gilli dal cuore dell'area di rigore azione insistita del bra su un primo tiro respinto arriva il destro al volo di marchisone bellissimo che permette i giallorossi di superare la sanremese al minuto 95 il colpo di testa di righetti permette alla lavagnese di superare il pondonaz 1 a 0 esultanza comprensibile per il numero 9 non abbiamo il gol dell'albenga contro l'rg ticino 1 a 0 mentre finta 0 a 0 asti città di varese si è giocato su due giorni anche nel girone b andiamo a vedere tutti i risultati con l'arconatese che batte il ponte san pietro e risponde al caldiero che vince a desenzano bella vittoria esterna della varesina pareggia la castellanzese sul campo della folgore caratese viene raggiunta pensata al 95esimo andiamo a vedere la classifica con l'arconatese sempre davanti a tutti davanti al caldiero mercoledì domani pomeriggio scusate c'è proprio la sfida tra caldiero e arconatese una delle due ovviamente passerà il mercoledì sera e poi fino a domenica in vetta andiamo anche in questo caso a vedere tutti i gol del girone b 29 gol nella quinta giornata del girone b l'arconatese sempre in testa in solitaria dopo il successo sul ponte san pietro due gol nel primo tempo il colpo di testa preciso di maute quello un po più fortunoso di alessio quaggio che segna così il gol del 2 a 0 ma esulta giustamente il numero 9 nella ripresa ningue riapre la partita sul regalo generoso di cavagna ma l'arconatese vince comunque resta davanti a tutti destro deviato di arma e il caldiero vince 1 a 0 a desenzano e resta secondo e mercoledì ci sarà proprio caldiero arconatese gole d'emozioni tra casatese varesina partenza lanciata in tutti i sensi degli ospiti vitale si fa tutto il campo serve sulla corsa gasparri il capitano da un bacio al palo e segna così il gol del vantaggio per gli ospiti il pareggio della casatese arriva però già nel primo tempo con la perfetta girata di stefanoni impallato purtroppo dal palo delle tribune di casatenovo poi due rigori lanciano la varesina il primo è trasformato da vitale sotto l'incrocio il pallone il secondo da orellana cruz che corona così una prestazione praticamente perfetta nel finale gol in mischia per la casatese ancora di stefanoni ma alla fine la varesina porta a casa tre punti pesantissimi parte fortissimo l'attrizio incontro il brusaporto gol d'autore di capogna gran girata dopo un solo minuto di gioco attrezzo sull'adda sempre nel primo tempo gnaziri spira barzago il destro va sotto l'incrocio ed esulta giustamente il giocatore abduano gran gol ma la reazione del brusaporto è in divenire già nel primo tempo secca anticipa tutti accorcia le distanze su azione da corner nella ripresa poi si scatena castelli che prima segna il gol del pareggio facendosi trovare pronto sul secondo palo poi trasforma un calcio di rigore segnando così il gol del 2 a 3 in pieno recupero infine la giocata clamorosa di socna che chiude così la partita finisce 2 a 4 in favore del brusaporto quattro gol anche del piacenza che vince a caravaggio con uno scatenato giorgio recino suo il primo gol dopo una bella sponda di indoi e recino si conferma sempre nel primo tempo segnando il rigore che indirizza ulteriormente la partita in favore degli ospiti bella azione in realtà del caravaggio in avvio di ripresa la confezionano marrazzo e doria segna fornare con il tapin vincente ma giorgio recino di testa è implacabile trova così il gol del 3 a 1 di fatto in corsa di testa anche gerbaudo che manda il pallone sul secondo palo dopo un preciso gol dalla destra e segna il gol del poker finale quattro gol anche a carate brianza ma equamente divisi tra folgore castellanzese gaetani per il vantaggio brianzolo ben imbeccato da un compagno pareggia mandelli ma è palese la complicità del portiere di casa che lascia lì un pallone semplice ribaltone castellanzese con il calcio di rigore di pastore terzo gol in nero verde per lui sembra fatta ma in pieno recupero chiere matteng segna così il gol del 2 a 2 che sarà anche il risultato finale parità anche tra villavalle clivense vantaggio bergamasco con rigore di perrotti dopo un minuto pareggia kocic con un sinistro di collo pieno in area di rigore col pallone che resta lì eccolo qua il sinistro vincente il derby bergamasco tra virtus e real sorride la calepina vantaggio ciserano però col tiro a giro di austoni pareggio di damuri con un gol da attaccante vero guardate come si divincola in area di rigore poi trova il gol dell'1 a 1 il bomber si ripete con una rete di tacco e si prende giustamente la scena pari senza reti tra palazzolo e legnano e anche tra club milano e crema davanti a tutti in classifica avete visto c'è l'arconatese di giovanni livieri che sta vivendo un momento d'oro analizziamo allora il momento degli oro blu settimo anno in serie di l'arconatese ormai un punto di riferimento nel panorama calcistico nazionale la società del presidente alfonso san nino del presidente onorario mario mantovani è sempre più una realtà nel massimo campionato dilettantistico un crescendo continuo cominciando a fine aprile del 2017 quando la vittoria sul brera permise la conquista del campionato di eccellenza è la scesa in serie di tanto è passato da allora ma il comune denominatore è rimasto sempre lo stesso sia in eccellenza che in serie di la volontà del direttore sportivo enio colombo è sempre stata quella di costruire squadre che divertano e si divertono in campo così non è affatto una sorpresa vedere l'arconatese in testa la classifica tanto che già nella stagione sospesa causa pandemia gli oro blu erano ai vertici quattro vittorie un pareggio lo 0 a 0 nel big match contro il legnano il cammino di questo inizio di campionato e forse per la prima volta in questi sette anni la formazione di giovanni livieri si sta dimostrando più quadrata col dato della miglior difesa come emblema di un arconatese più attenta anche alla fase difensiva dopo i due gol subiti dal club milano l'unica rete al passivo è arrivata domenica per mano del ponte san pietro ma su generoso regalo di jannis cavagna un gol che ha tenuto in apprensione l'arconatese in ottica tre punti un arconatese già in apprensione per l'infortunio di mario chessa ecco forse proprio il talento di mario che essa è ancora da scoprire visto che troppo spesso in questo anno e mezzo super mario è stato condizionato dagli infortuni non potendo esprimersi sui livelli di castellanza arconate lo coccola e lo aspetta nel frattempo giovanni livieri spera di recuperarlo già per la trasferta di caldiero terme il tecnico nel frattempo ha festeggiato il conseguimento del patentino da allenatore uefa un'ulteriore ciliegina su un inizio di campionato più che mai dolce l'arconatese con le vele spiegate dopo un inizio di stagione da sogno è pronta ora la sfida di caldiero terme prima contro seconda tornare con una vittoria dal veneto sarebbe un segnale importante dato in primis a se stessi e poi alle avversarie perché tutti parlano del piacenza delle bresciane delle insidie venete ma anche l'arconatese vuole partecipare al gran ballo della serie d e ora come consuetudine la tradizionale top 11 ovvero i migliori 11 giocatori prettamente lombardi che si sono particolarmente distinti nell'ultimo turno giocato simone stucchi se il club milano pareggia col crema gran merito è suo enrico maute secondo gol e l'arconatese ringrazia il suo giovane difensore milan kochic con un nome così la clivencia il suo teo hernandez riccardo tomella l'ex giovani librescia tra i migliori in campo nel centrocampo del crema andrea arcidiacono baluardo nella retroguardia di una vogherese inviolata michele mandelli ancora una volta trascinatore in casa castellanzese rashid arma già terza rete per l'attaccante di un caldiero da piani alti marco damuri due gol bellissimi per la prima vittoria della calepina giorgio recino torna in top 11 con tre gol non poteva essere altrimenti marcello regliana cruz inventa per i compagni e segna a casate novo marco castelli guida lui la rimonta del brusaporto attrezzo da grande ex squadra decisamente offensiva la fidiamo a marco spilli che è il miglior attacco bene anche in questo caso siamo arrivati in chiusura noi siamo pronti a tornare subito in campo col turno infrasettimanale poi il turno di domenica l'appuntamento invece qui con serie di lombardia torna tradizionale mercoledì sera alle ore 19 45 su rete 55 canale 88 della digitale e terrestre io vi aspetto settimana prossima